Buongiorno, si parla tanto di cambiamento, di innovazione, infatti abbiamo visto cosa è successo negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e anche qui in Italia con il nostro referendum e quindi l'innovazione e il cambiamento sono al centro della volontà di tutte le istituzioni e di tutti i gruppi sportivi. Noi siamo Data Sport, siamo qui nella Silicon Valley dei media sportivi italiani e siamo a parlare di nuove situazioni. Avete visto recentemente che è cambiata la proprietà nei media di Cairo che ha comprato l'RCS, il gruppo espresso ha cooptato la stampa, la Mondadori ha acquisito la parte digitale di Banzai, media sette vivendi sono in lotta per la definizione della proprietà. Quindi stanno cambiando molte cose a livello mediatico ma anche a livello istituzionale. Nel nostro piccolo Data Sport, e lo vedrete su Data Sport.it a partire da gennaio, sta facendo molte innovazioni. Abbiamo puntato tutto sull'informatica e soprattutto su un database che guiderà un po' tutta l'informazione italiana. Questa tavola rotonda ha proprio questa funzione, quella di innovare e cercare di andare alla fonte di tutti i problemi. Data Sport ha due milioni e mezzo di utenti ogni mese e per questo vogliamo tenere informati tutti nel modo giusto. Oggi parliamo di ciclismo. Iniziamo questa tavola rotonda proprio con la candidata alla Federazione Italiana Ciclistica, che è Norma Gimondi. Abbiamo anche un giornalista, Filippo Caus, che è un esperto sia di ciclismo ma anche di sport e farà delle domande che ci confronteremo su questo tema. Adesso passo la parola a Norma Gimondi, candidata alla Presidenza della Federazione Italiana Ciclistica, che ci illustrerà i punti cardini del suo programma. Buongiorno a tutti. Il 15 dicembre ho inviato il mio programma alla Federazione Ciclistica Italiana. È un programma che non ho la presunzione di poter riassumere in poche parole perché si compone di 18 pagine. La cosa fondamentale però di questo programma, che nasce da collaborazioni con una squadra di persone che hanno lavorato con me sul territorio, hanno ascoltato i comitati regionali e provinciali, appunto il primo punto fondamentale è la riforma dello Statuto della Federazione. In modo particolare si sente l'esigenza di rendere lo Statuto federale un regolamento attuale, soprattutto organico. Mi riferisco in modo particolare alla possibilità per società e tesserati di votare direttamente il Presidente federale. Mi riferisco alla necessità di costituire all'interno della Federazione un consiglio presidenziale come organo che sia obbligatorio perché attualmente questo organo è solo facoltativo e purtroppo, e ahimè, la Federazione in un anno ha visto ben 85 delibere presidenziali. Quindi provvedimenti che provengono dal Presidente in assenza di una collegialità e quindi sotto questo profilo è necessario un intervento riformatore. Così come, sempre in ambito statutario, è necessario limitare i mandati del Presidente federale a due come massimo. Il programma prevede inoltre una riforma dello Statuto per quanto riguarda il coinvolgimento dei comitati regionali e provinciali all'interno della vita federale. Purtroppo, nella fase attuale, noi abbiamo una federazione di vertice scollata da quello che è il territorio. Quindi un consiglio federale che poco ascolta i consigli regionali e provinciali. Vorremmo che invece questi organi fossero al centro della nostra federazione perché è necessaria che ci sia una massima sinergia tra il vertice e il territorio. Dopodiché, altra questione molto importante che ho toccato con il mio programma è la necessità di rendere la federazione un soggetto commercialmente appetibile. Quindi dare maggior vigore all'immagine federale e alla maglia azzurra e creare una sinergia con il Made in Italy e con gli organizzatori delle grandi gare. Come giustamente ha detto il signor Chiesa qualche istante fa, RCS è stata acquistata oggi dal signor Cairo. Signor Cairo che è un grande imprenditore a livello nazionale col quale sicuramente la federazione dovrà trovare delle sinergie. Ultimo punto che mi piace sottolineare è la riforma anche della legge sul professionismo. La legge è il numero 91 che risale al 1981. Oggi come oggi nel ciclismo noi sappiamo che ci sono dilettanti che svolgono attività quasi a livello professionistico così come ci sono professionisti delle squadre continental che svolgono un'attività che forse si avvicina più a quella del dilettantismo. Abbiamo bisogno qui di una riforma, una riforma che non potrà essere soltanto quella della federazione ciclistica italiana ma che dovrà essere senz'altro appoggiata dalle altre federazioni per portare in Parlamento un disegno di legge più che organico. Grazie per questo intervento assolutamente innovativo e assolutamente accattivante e in linea perfettamente su quello che c'è sul tavolo di questa tavola rotonda ovvero innovazione, cambiamento e futuro e soprattutto passione. Ma sentiamo Filippo Caus che cosa l'ha incuriosito da questa presentazione di questo programma. Buongiorno, grazie mille a Data Sport per l'ospitalità e un in bocca al lupo a Norma Gimondi innanzitutto per una sfida sicuramente ambiziosa. Ora stiamo parlando molto di innovazione e l'ambito della federazione ciclistica italiana è un ambito che ha un suo governo che è più o meno lineare da alcuni lustri ormai per cui la sua candidatura è sicuramente un gesto innovativo. Quello che mi chiedo, visto che il suo cognome è un cognome ben noto nel ciclismo il suo nome comunque, insomma lei ha avuto anche a che fare negli ultimi anni con la federazione ciclistica italiana quindi ha conosciuto anche dall'interno i meccanismi di funzionamento e le politiche della federazione quali sono a questo punto le sue reali proposte di innovazione e innanzitutto le prime politiche di innovazione che intende portare alla federazione ciclistica italiana in caso di elezione? Preciso subito che in ambito federale io ho svolto esclusivamente il ruolo di membro della Corte d'Appello federale quindi il sistema effettivamente l'ho conosciuto dall'interno ma sotto aspetti di carattere prettamente giuridici non ho esperienza in termini di politica sportiva quindi se posso dire la mia candidatura è una candidatura innovativa sotto questo profilo perché non avendo avuto in precedenza esperienze in ambito di comitati provinciali o regionali sono senz'altro un elemento di rottura con quello che è il passato per quanto riguarda poi il rinnovamento che è necessario portare in federazione direi che sia nel settore pista che nel settore fuoristrada il lavoro da fare è tantissimo in modo particolare per quanto riguarda la pista pur avendo avuto quest'anno risultati importanti con Viviani con la sua medaglia olimpica sottolineo che la federazione non ha attualmente un progetto pista ha un ottimo tecnico che è Villa Marco ma manca di progettualità sia affidata fino a oggi al talento dei singoli atleti ma soprattutto anche alle capacità economiche delle società private con cui questi atleti hanno gareggiato bisogna portare avanti un discorso legato alla pista che sia anche di reclutamento reclutamento di nuovi talenti e di sviluppo di un piano per i prossimi 4 anni per arrivare a Tokyo molto più competitivi di quanto ci sia arrivati quest'anno per quanto riguarda il fuoristrada ahimè devo prendere atto che il fuoristrada oggi come oggi dalla federazione non è neppure considerato o forse per meglio dire le società del fuoristrada sono completamente scollate dalla federazione nazionale italiana questo è assolutamente un peccato 20 anni fa noi in Italia abbiamo avuto un Dario Acquaroli che ha vinto un campionato del mondo quest'anno francamente di atleti della mountain bike al di là di Fontana non ne vedo granché e anche e soprattutto le giovani leve mancano qui è necessario un programma è necessario riavvicinare le società sportive del fuoristrada perché abbiamo bisogno di progettualità e di talenti per quanto riguarda poi il settore ciclismo professionistico penso che sia lampante il fatto che malgrado la crisi globale a cui danno tutti la responsabilità per il fatto che non abbiamo squadre pro tour che abbiamo un calendario povero di gare a livello italiano altri stati come Francia, Spagna, Olanda e soprattutto Belgio hanno mantenuto le loro squadre a livello pro tour hanno tutelato il loro calendario noi in Italia non siamo stati capaci di far questo quindi per i prossimi 4 anni bisognerà lavorare in tal senso ed è anche vero, io credo, che il numero di professionisti che oggi abbiamo in Italia si è dimezzato rispetto a due anni fa questo è un campanello d'allarme campanello d'allarme che probabilmente però in federazione non ha avuto alcun riscontro altri elementi importanti da non sottovalutare sono senz'altro anche il ciclismo femminile quest'anno il ciclismo femminile ha dato alla federazione i risultati migliori però secondo me manca di immagine io verifico quotidianamente su anche giornali sportivi che atlete di altre federazioni la Pellegrino, la Vezzali atlete comunque in federazioni più piccole rispetto a quella italiana hanno un riscontro d'immagine che è cento volte quello che hanno le nostre atlete mi chiedo il perché non si è in grado di portare avanti una politica del ciclismo femminile che possa avvicinare televisione, mass media e sponsor a quello che anche sotto il profilo commerciale potrebbe essere senz'altro un elemento da sfruttare Grazie Norma abbiamo sentito quanti sono i settori del ciclismo e soprattutto che il cambiamento è in atto e a quanto pare non è stato molto recepito dalla istituzione ed ecco perché ci vuole un'innovazione e un cambiamento effettivo in tutti i settori perché ognuno giustamente rivendica la sua posizione e per il ciclismo in Italia che è storicamente una delle passioni in più importanti è necessario cambiare o modificare la struttura stessa dell'istituzione Parlavamo di altri ciclismi soprattutto sul fuoristrada che godono di grande popolarità ma che alla federazione sono un po' invisibili eppure muovono passione, muovono numeri muovono anche mercato a questo punto quello che mi chiedo è come la federazione sotto la sua prossima eventuale presidenza può pensare di riavvicinarsi a questi mondi in particolare ripartendo dai territori penso per mia conoscenza personale alla pista ad esempio a un patrimonio di quasi 40 velodromi sparsi per l'Italia quasi tutti chiusi ma anche alle altre forme di ciclismo che possono contribuire a dare forza alla federazione e al rapporto quindi con le realtà territoriali il mio lavoro io faccio l'avvocato mi ha insegnato una cosa importante per andare avanti è necessario confrontarsi dialogare trovare poi la soluzione diventa più facile quindi per poter riavvicinare le società da mountain bike è necessario invitarle ad un tavolo di confronto a delle tavole rotonde facendo capire che la federazione è attenta ai loro problemi e vuole essere uno strumento e un partner in grado di aiutarli a superare e a migliorare anche il loro settore per quanto riguarda la pista io credo che ci siano grossi margini di miglioramento Montichiari è senz'altro una struttura all'avanguardia gestita secondo me non all'altezza della situazione la pista di Fiorenzuola nel suo piccolo è una struttura che lavora molto bene sia a livello organizzativo sia a livello di reclutamento questo dovrebbe essere il modello all'interno della pista ma dico anche qualcosa in più le piste potrebbero essere delle vere e proprie scuole di ciclismo perché al loro interno si potrebbe proporre ai ragazzini non soltanto di utilizzare la bicicletta da pista ma si potrebbero realizzare all'interno dei velodromi degli spazi per il trial o il BMX spazi protetti spazi in cui i ragazzi potrebbero approcciare questo sport in massima sicurezza e valutare davvero in un ambito di multi sport diciamo così la possibilità di scegliere tra la pista il trial o il BMX o addirittura anche la mountain bike qui è necessario intervenire abbiamo strutture secondo me che possono essere sfruttate anche il vigorelli a mio modo di vedere in questo momento così come è gestito non porta granché al nostro movimento ci vuole un attimino più di imprenditorialità per sfruttare questi centri concludiamo qui la nostra tavola rotonda perfettamente riuscita perché siamo riusciti a sintetizzare in maniera perfetta tutti i concetti abbiamo parlato di ciclismo abbiamo parlato delle sue prospettive e ringrazio Filippo Caus per il suo intervento e la candidata alla presidenza della Federazione Ciclistica Italiana Norma Gimondi con questo è tutto e alla prossima puntata grazie a tutti